Il governo nonostante la fiducia resta sul filo del rasoio, il sistema politico non è certo in salute e le istituzioni non sempre sono rappresentative dei veri bisogni della gente. In crisi però sembra essere anche il pensiero critico, la pensano così i rappresentanti del coordinamento dei ricercatori e delle ricercatrici di Bari che nella sala consigliare del comune hanno organizzato un incontro dibattito per discutere della crisi attuale dentro e fuori l'università, un'iniziativa che si inserisce nell'ambito di un più ampio programma di attività svolto in tutto il paese sul tema criticare la crisi, luoghi e figure della crisi per una topografia del cambiamento. Discutere della possibilità stessa di esprimere un pensiero critico in un universo che sembra essersi ormai appiattito insomma su un pensiero dominante che esclude la possibilità di critica e di la possibilità di esprimere un pensiero alternativo. Alla tavola rotonda anche il sociologo Onofrio Romano. Io penso che la cosa più preoccupante in questo frangente non è tanto la contingenza della crisi ma il fatto che abbiamo degli schemi di pensiero che ci tengono incollati ad una forma di società che è la stessa che è entrata in crisi. Quindi non riusciamo ad uscire da questo.